Via Salari Antica Est sarà riqualificata. Il Comune ha consegnato i lavori del secondo lotto di opere per la riqualificazione dell'area di smessa tra Via Salari Antica Est e Via Fulvio Muzzi, a ridosso del progetto case di Sant'Antonio, della scuola primaria, che fa parte dell'Istituto Rodari. 6.600 metri quadri, un'area molto vasta, in cui al momento c'è un accumulo di terra e materiali vari, lasciati dopo la costruzione del progetto case. Per prima cosa si sta facendo lo sbancamento della terra, che sarà riportata a livello della superficie stradale. Un'operazione che sarà conclusa in 60 giorni e che avrà un costo di 200.000 euro. Un lavoro che rientra però in un vasto intervento di riqualificazione. Il primo step in zona è stata la realizzazione di un parcheggio a raso, a servizio delle tante attività che ci sono in zona. Ora si farà anche un'ampia area verde, con parco giochi per bambini, servizi igienici e una pista di minigolf collegata al campo sportivo polivalente, a servizio della comunità. Servizi e infrastrutture per migliorare la qualità della vita, con un impegno di spesa di circa 400.000 euro. Lavori, anche questi, che saranno finanziati dalle risorse del PNRR. Prima lì c'era solamente quell'accumulo di terra che abbiamo ereditato ancora dai lavori del progetto case. Nessuno si era curato di rimuoverla. Abbiamo fatto un primo lotto con il parcheggio. Il nuovo lotto sarà fatto da aree verdi, percorsi benessere, un mini golf, un campo da mini golf, altre attrezzature sportive. Ci sarà anche un edificio con dei servizi igienici, una piccola cucina. Quindi anche eventualmente per farlo diventare un punto di aggregazione. Si tratta di un intervento importante che insiste su un'area rale più popolate dell'Aquila, tutta la zona di Pile, fra l'altro resa ancora più antropizzata dalla presenza del progetto case. Crediamo sia una risposta importante per un territorio che aveva necessità di questo genere di attrezzature e di luoghi.